La Francia accoglie i 230 migranti della Ocean Viking ma punisce Roma sospendendo le ricollocazioni. 3.500 migranti resteranno in Italia. La Commissione europea ha presentato le nuove normative per veicoli leggeri e pesanti Euro 7 e entreranno in vigore a partire da luglio 2025. I 230 migranti a bordo della Ocean Viking vengono accolti nel porto francese di Tolone dopo il rifiuto dell'Italia di farli sbarcare. Tuttavia, per ragioni sanitarie, alcuni di questi naufraghi verranno trasportati in Corsica. La decisione è stata annunciata dal ministro francese dell'interno, Gérald Darmanin, che si è espresso in questo modo. Ogni ora in più il mare mette a rischio la vita di alcuni dei passeggeri del natante. Le nuove autorità italiane hanno preso l'incomprensibile decisione di non rispondere alle tante richieste di assistenza avanzate dalla nave in questi giorni. Nonostante il natante fosse, senza alcuna possibile contestazione, nella zona di ricerca e di soccorso italiana. Con un tweet, SOS Mediterranea ha dichiarato un misso di sollievo e rabbia alla notizia che Tolone è stata designata come porto sicuro. La Francia ha inoltre annunciato che sospende l'accoglienza prevista di 3500 rifugiati attualmente in Italia. Il ministro dell'interno francese ha ricordato che un meccanismo europeo consente la ricollocazione dei profughi giunti in Italia ed ha invitato la Germania a fare altrettanto. Le navi delle ONG vanno ramenghe nel Mediterraneo cariche di uomini, donne e bambini in cerca di un porto sicuro dopo che l'Italia ha chiuso di nuovo per motivi politici suoi. La Francia apre il porto di Tolone alla Ocean Viking ma lancia un ricatto e invita tutti gli stati che partecipano al meccanismo di solidarietà a rifiutare i migranti sbarcati in Italia, proprio come farà Parigi. In questo garbuglio di politica, convenzioni e leggi internazionali, qual è la posizione di Bruxelles? Sostiene che le navi debbano attraccare nel porto sicuro più vicino o no? È la nostra domanda. La Commissione non è incaricata di designare alcun porto sicuro. La ricerca e il salvataggio sono di competenza esclusiva degli stati membri. La Commissione è pronta a sostenere gli stati membri in tutto e non solo quando si tratta di sbarco o trasferimento. Non spetta a me, dal podio qui a Berlemont, dire qual è il luogo sicuro più vicino o qual è il porto designato più sicuro. Insomma, Bruxelles non interviene anche se le capitali si accapigliano come Roma e Parigi nelle ultime ore. Di mezzo ci sono i migranti che attendono che muoiono così come è successo pure a un bimbo di 20 giorni con problemi respiratori. Eppure il diritto, come spiega il professor paleologo, è chiaro. C'è anche una indicazione precisa sulla Convenzione di Hamburgo. Ci sono dei punti precisi che dicono che lo sbarco deve venire nel porto sicuro più vicino, nel tempo ragionevolmente più breve possibile. Cioè non si può consentire una tale discrezionalità in capo agli stati costieri che eludono il proprio obbligo di assegnare un porto di sbarco sicuro rinviando a un paese lontano verso il quale la nave potrebbe impiegare settimane prima di arrivare. Se guardiamo le domande di asilo formalizzate, l'Italia ne ha circa 50.000 all'anno contro 150-200.000 della Germania a secondo degli anni. Quindi siamo su numeri che non ci legittimano a chiedere una particolare solidarietà europea. Primo incontro questo giovedì a Palazzo Chigi a Roma per il Presidente del Consiglio Italiano Giorgia Meloni e il Segretario Generale della Nato Jens Stoltenberg. La Premier ha confermato l'impegno dell'Italia nei confronti della Nato. L'alleanza è indispensabile per la sicurezza e la prosperità delle nostre nazioni. Senza sicurezza non c'è e non ci può essere crescita per le nostre società e ovviamente dobbiamo insieme difendere i comuni valori della nostra identità. Tra i temi caldi affrontati nel colloquio tra Meloni e Stoltenberg è naturalmente il caso migranti, dichiara Stoltenberg. La Nato è vigile. Con la nostra operazione Sea Guardian siamo regolarmente impegnati nel pattugliamento del Mediterraneo in una missione per contrastare l'immigrazione clandestina nel mare Geo e nel rafforzamento delle capacità dei nostri partner in Medio Oriente e Nord Africa in un mondo sempre più pericoloso ed imprevedibile e essenziale che tutti noi continuiamo ad investire nella difesa. Quindi, primo ministro Meloni, cara Giorgia, grazie per il vostro forte impegno a favore della nostra alleanza. L'Italia può sempre contare sulla Nato e io so che la Nato può sempre contare sull'Italia. La solidarietà dell'Unione nei confronti della Moldavia è incrollabile e aumenta il nostro sostegno di fronte alla grave crisi energetica causata dalla Russia. Forniremo altri 200 milioni di euro per la vostra sicurezza energetica e 50 milioni di euro a sostegno al vostro bilancio. L'ho detto in Moldavia la Presidente della Commissione Europea nel corso del suo incontro con la Presidente Maya Sandu. Due poliziotti sono stati accoltellati questo giovedì sera alla Gardio Nord a Bruxelles nel quartiere di Scheerbeck. Uno di loro è morto poco dopo l'attacco nell'ospedale dove pure il suo collega e l'attentatore sono stati portati. L'assalitore è stato infatti ferito da un terzo agente che ha sparato per fermarlo. Chi ha attaccato è un uomo di 32 anni inserito nella lista dei potenziali estremisti violenti. Sul fatto indaga la procura antiterrorismo. Il premier belga Alexander De Croo ha espresso via Twitter la vicinanza alle forze di polizia. Mentre i conteggi sono sempre in corso sembra più probabile che l'esito delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti sarà dettagliato solo all'inizio di dicembre per via del ballottaggio tra i principali candidati al Senato in Georgia. Nel democratico Raphael Warnock, nel suo rivale repubblicano Herschel Walker hanno raggiunto il 50% dei voti martedì. Per un analista intervistato da Euronews, i georgiani tengono nelle loro mani il destino politico nazionale. Vedremo soldi riversarsi dall'esterno. Uno stratega della campagna entrerà in Georgia. Probabilmente vedremo grandi firme della politica e certe celebrità entrare nella mischia. Tutto ciò cambierà il carattere di queste elezioni in modo significativo. Una volta che il polverone del midterm sarà esaurito l'attenzione si sposterà sulla battaglia interna ai repubblicani. Dopo la sua ottima performance, il governatore della Florida, Ron DeSantis è accreditato come lo sfidante di Donald Trump per la nomination alla presidenziali del 2024. Penso ancora che Donald Trump debba essere considerato il favorito a questo punto. L'onda lunga che DeSantis sta cavalcando appare sopravvalutata, in particolare in un'elezione in cui i repubblicani non hanno fatto un buon risultato a livello nazionale. La cosa lo ha sicuramente aiutato e in particolare ha favorito certi segmenti del partito repubblicano, quelli che vorrebbero archiviare Donald Trump. Le elezioni di medio termine hanno dimostrato ancora una volta quanto si è polarizzato l'elettorato statunitense. Intanto c'è la soddisfazione che per questa volta le tensioni sociopolitiche non sono sfociate in violenze di piazza. Arrivano gli standard Euro 7 per automobili, furgoni, camion e autobus venduti nell'Unione Europea. La Commissione Europea ha proposto nuove norme per l'ultima generazione di veicoli a combustione che si prevede rimarranno sulle strade europee ben oltre il 2035, data prevista per la riduzione del 100% della CO2 e il passaggio totale dei 27 paesi europei all'elettrico. Thierry Breton, commissario europeo per il mercato interno. La nostra proposta farà la differenza perché nel 2035, grazie alla normativa Euro 7, le emissioni di ossidi di azoto e particolato dei veicoli leggeri dovrebbero ridursi di circa il 35% rispetto all'Euro 6 di oggi. Per i veicoli pesanti la riduzione sarà superiore al 50%. La proposta dovrebbe essere accettata dal Parlamento Europeo e dei paesi membri per entrare in vigore nel luglio 2025 per auto e furgoni, nel 2027 per i camion. In ottobre gli europarlamentari e gli stati membri hanno raggiunto un accordo per vietare la vendita di nuove auto e furgoni a benzina e diesel entro il 2035. Il rinascimento di Hieronymus Bosch è in mostra a Milano, a Palazzo Reale, fino al 12 marzo 2023. Il percorso espositivo del pittore Fiammingo, vissuto a cavallo tra 400 e 500, presenta un centinaio di opere d'arte, tra dipinti, sculture, razzi, incisioni, bronzetti, antichi volumi e oggetti rari. Uno dei curatori, Bernard Aichema, è entusiasta. Figurine piccole, mostriciattoli, incendi, infiniti dettagli. Io che conosco questo mondo ormai come le mie tasche, ogni volta che riguardo uno di questi capolavori trovo un nuovo particolare, è incredibile. Bosch è un altro rinascimento, questo è il titolo della mostra, proprio perché il pittore nato in Olanda non può essere considerato semplicemente un artista rinascimentale, ma molto di più, influenzando con la sua opera anche altri artisti contemporanei o successivi come Raffaello e Tiziano. E per la prima volta in Italia, proveniente da Lisbona, sarà visibile il monumentale trittico delle tentazioni di Sant'Antonio.